Bene ragazzi, eccoci a un nuovo episodio di Tales of Arise. Prima di proseguire con la storia, mi sto facendo un po' di missioni secondarie. Vediamo cosa vuole. Che missioni dovremmo fare? Andare al loro matrimonio? Ah, quindi parteciparà alle nozze? Che carino. Ok, ho sbagliato come al solito a leggere le mappe. Ma con armatura si sposa? Un po' di 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 che è stata stranzata non si vede questo bucè, che cos'è? Ah, ok, ha dato un'arma No vabbè, ma la devo provare Ah, praticamente si sono scambiate le armi da matrimonio Le torte nuziali Ok, missione del cavolo Oh, bloccata Nobilità Vediamo che fa... Ah, un'altra di buio Mi manca questo qui che forse mi sono persa da qualche parte Oddio, ne mancano molte da alcuni così, giusto per... chissà dove le ho perse Ok Eh, guarda, mi sento benissimo Allora, vediamo se ci sono altre missioni in giro Allora C'è una missione da fare al lago, mi sembra Lago, sì Qua, dove sta? Sì Eh, comunque devo provare l'arma I'm sorry I lost my cool like that Don't worry It's not like I have any room for criticism Being a grown-up isn't easy, is it? Everything okay there I'll say What's eating at you? Come on Hmm? Yeah It's, uh A pep Snuck its way into the back of my... Oh, I totally get you Yeah It's barely bigger than a grain of sand You know Maybe this is a crazy solution But you... Ugh Phew Seemed kind of obvious That's the trouble with windy places Alfin Now that you mention it The other night it... So much for sensitive That... Nothing new on that front then What's the matter, Alfin? He wants to get angry But knows that doing so would only prove our point Would you stop analyzing things for one minute? Point taken Allora Vediamo Quest'arma Isshion Ah, è forte Ah, 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 ah Io pensavo che era una soronzata Ok, no Questo fa cacare Vedi un po' Sì, è uscita qualche altra cosa Non credo Lo avevo già messi Ok Andiamo a prenderci Oh, mi sembra che l'avevo presi tutti No, 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 no Aspetta Ho bagnato pulsante Da mo' Ah, 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 ah Vedete, l'avevo presi altri di così Oh, questo è nuovo Eccolo Proviamo Se riesco a prenderlo Un po' il e e e e e e e Grazie a tutti. Dai... 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 Il mio... E che cavolo... La decima volta ce l'ho fatta. Ok, completata questa parte del lago. Adio. Sì 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 Di Is Dio Vamo via Ma ci puoi ragionare con questo Grazie a tutti 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 Ok Dai ce l'abbiamo fatta Un'altra missione andata Stiamo a 53 Seconda 3 Dobbiamo mangiare qualcosa che non abbiamo cucinato prima Oh che carino che cos'è Un'altra cosa Cos'è? Un'abilità di half? Un'attivamento B Buono Cos'è questo? Selezione da K Vabbè tanto ce l'avevo già Buono Non ce l'avevo tuono Mi sa che gli faccio tuono Oh vabbè tanto gli altri l'abbiamo finiti Allora Vediamo questa cucina ora Allora Questo Questo L'avevamo fatto in gelato L'omuletto E l'avevamo fatto E l'avevamo fatto Mambo Sembra di sì Conduta di L'abbiamo fatta Panino alla pancetta Mi sa di sì Pesce la griglia Pura Questo non l'abbiamo fatto E' scimi Pensa a P Questo neanche mi sa Pensa a P Perfetto Garan- Allora It's That's a lot of fish You've cut up again That's because I caught so many earlier If you're going to eat them Was it difficult slicing No, I'm used to it It's no big deal for me at this point I know I probably shouldn't be saying this Oh, I'm sorry Law I didn't realize I only make it because it's an easy way to de- You haven't done anything wrong Kisara Law, if you don't like the flavor You're always welcome Hey, yeah That might work Cool What's wrong Law? I'd never seen someone jump up He ran as soon as he took a bite of that sashimi Hmm Was he I don't think that sashimi is the P Ah, è uscita dalla faccina Shion I don't know Kisara Let's talk for a bit So, Kisara Once this fight is all over Yeah I've seen and learned so much traveling Dana with you all I want to see those Hopefully I can use that knowledge to help What about you, Alphen? That's a good question I think I would be Granted, all I've ever known is how to swing a sword I'm not sure that switch will be Still, as long as I have somewhere to come home It would be a home You love fishing if you're even thinking of ways to help other people enjoy I do Just... Don't tell him I said any of this Him? You mean Dohalim? True If he caught wind Not only that He's still determined to make Vicent's residents happy But... So if I ever get around to making my fishing pond I'd rather... Well, if you ever need help Don't hesitate to ask I don't know my... That's sweet of you to offer I think I'll take you And then With the fish I catch there I could treat... I suppose I never realized until this conversation That I had any dreams like that for my... Don't worry Once I finish folding these clothes I'll go to sleep Oh, sbloccata un'arma suprema Quindi completando Il parlare con tutti mi sblocca le armi suprema Ah, vedi Cattura e sfiletta Dai, vediamo che arma gli ha Affondo Sfiero una serie di calci volantino avanti Allora, da volo? Ah no, aspetta Dovevo vedere E' già mi s'ho scordata qual'era Vabbè, qualcuno... Ah, allora sta di qua Ok Ah no Allora Tieni premuto Vabbè Quindi devi fare una combo di minimo 5 colpi Con arti differenti Una combo di 5 È un po' difficile però 5 colpi Fare 1, 2, 3 Più Le 2 del salto In pratica È un po' difficile da fare Ok Allora, noi abbiamo completato la missione Mi dice qua Mi dice qua Missione che... Missione, missione... Missione... Ok Perfetto Mi dice dove devo ritornare che non mi ricordo Questa è la prossima che mi devo fare Era questo? Non mi ricordo Sì, era il mostro che stava a terra Sì, sì Vediamo se poi mi danno un'altra missione Ho finito qua Ho finito qua No, nuova missione al monte mi so che avremo un'infinità di cose da fare al monte ma abbiamo delle uoili ma quindi e prima io direi di fare prima con l'altro è perché penso che sia più potente quest'ultimo a parte che devo riparlare con il coso sono facendo dei complimenti il coso è il segretario per mettere il segretario? oh io non... potrei avermi fulgata qualcuno che si tratta lyricali sulle estetiche di cacthus è un passo troppo lungo e i quei poetiche che si tratta si tratta in una conversazione regolata piace il sonore della sua sua voce è sicuramente mi chiede per il suo divertimento non bisogna provare a capire ha sempre stato? non sembrava sempre a l'esercizio in Menincia ma era il mio superior non c'era un mercante qua? ah sta là il mercante guardiamo questi quanti erano che non mi ricordo 66 è 53 ma non lo so penso proprio io direi di cambiare non ci sono 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 quindi comunque l'avevo cambiato perchè mi è rimasto lui? non ci sono 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 ma ce l'ho fatta non ci sono 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 ma ce l'ho fatta non ci sono non ci sono No, ma quindi faceva sempre parte della missione? Quindi mo' ci fanno salire sopra? Oh, fammi comprare un po' di roba? Oh, questo lo posso fare adesso? Ok. 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 Vabbè, un po', non li potevo neanche creare pur valendo. Quindi diciamo che una buona parte li ho creati. Ah, vediamo se potevo vendere qualcosa. Frammenti duro ce ne ho due. Vediamo se è fattibile sto mostro. Ah. Ok. Per me ne è solo uno. 59. Non è il massimo proprio. Allora, abbiamo detto... Ah, è di luce. Dovremmo usare buio. Allora, facciamo così. Di buio conviene lui. Ok. Di buio non c'è niente, mi so. Sono troppo bassi. No, io non c'ho proprio niente. Forse lui c'è qualcosa di buio. Eh, ma ci ho messo luce. Non c'è niente di buio. Eh, questo è troppo basso, però. Anche questo, ma vabbè. Ci maniamo così. Non c'è niente di buio. Eh, meno. Meno brutto. Sono morta. Eh, vabbè. Questo giro mi sa che moriremo abbastanza. Alfa è morto, pura. Ecco a te. Che cazzo ho fatto? Non mi da manco quello. almeno mi morite due secondi questa shion shion è morta annaggia la miseria facciamo così no? facciamo tutti da lontano non lo so secondo me non ce la facciamo questo giro siamo squalibrati al massimo proprio niente guarda ma io credo di... facciamo così va? no questo non ce la facciamo eh no questo no continuiamo di qua vediamo un po' vediamo ma ci fa andare parliamo o scendiamo? ok 70 e 66 se vabbè no 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 ciao adesso è impossibile tutto è duro ma che è? allora forse dobbiamo andare giù proviamo a andare giù che ti devo dire? oh mi fa camminare oggi allora a salire non si può scendiamo oh allora finisco non l'ho mica vista sembra che avevo fatto un volo di non si capisce quando ma comunque non si capisce niente questa struttura ma? ma? so caduto lo stesso questi quando staranno? ci riesco a fare intorno intorno senza questi che mi rompono le balle? sì eh il problema è che ci sta il gusola facciamo così poi mi sa che è questo quello col boss? che dicevano loro? no ce la facciamo assaltare no? ma si sale da qua quando sono? 66 da 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 14 diciamo finire da qui Oh no. 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 Oh no... Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. I, I hated Almadria for destroying everything I love, even though I swore I'd get revenge. There was always this next... Rinwell, it was Almadria who killed your family. Don't torment... How can you say that when my mother and father died because... This may not comfort you much. I have a feeling your parents always knew something like that. What do you... There was always a chance that someday, someone was going to... But even knowing the risks, they still taught you magic. And they were too... Second, they were... On you, Rinwell. Sure, they knew what they... Because... Sorry. No. I used to think, but after trying... So I'm going to keep trying... Not at all. We should really get some rest. Another day, another Gald. Sting. 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 Grazie a tutti. 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 Alfa è morto. Oh mi sa. Dona mia. Alfa è morto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Can do. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come ci sono. altri nemici in giro. ... alleluia siamo arrivati a 55 55 dai facciamo arrivare a 60 ma che ci sta un altro mosto la manda a curare non mi fido dovrebbe essere solo quello per aspetta dovrei sapere che ira da sta gelatina la mina non la voglio aspetta 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 non cuciniamo ancora dai ancora abbastanza di ricetta se un gufetto poteva uscire sto bordello ma qua ci deve dare guacchiamo allora aspetta vediamo che ci sta qua luccio facciamo vedere così come si deve luccio eccolo ah così quale sarà il luccio lungo sembra normale ho preso il luccio adesso dobbiamo prendere sto cigno qua e non mi doveva dare uno di eccolo ma arrivo un mosso da tre me ne è sicuro che prendo subito quello da due e non perdo tempo allora sicuramente mo sbaglio all'inizio perché devo misurarmi con le mosse che fa questo se fa è sempre rb mi troppo bene no 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 ah l'ho preso a prima botta che culo non ci credo che l'ho finito non ci credo che l'ho finito a prima botta finito finito pure questo ok ok e andarcene di qua bello che ce lo mangiamo fra un po' no no And this must be be... That may be a tall order The pirarucu doesn't like... Speaking of which... Whoa! He's snapping up all sorts of... Hudo, stop! Do owls even like to eat fish? He'll eat them, sure But that's not the point I have no idea why the heck he would... Maybe it's all a business plan He thinks if he brings enough fish He can trade them for this albino pirarucu And eat the whole thing... Seriously? it's ok hoodl it's a big fish but since he went out of his way to catch so many fish might as well cook or gofetto li voleva allora completiamo la missione dei pesciolini always good to be back ok ok good one good good son guardante acqua i'll watch i watch it c'era Grazie a tutti. 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 Aspetta un attimo. Se... Oggetti... Coipaggiamento... Se lì ho preso il libro... Vigile... Io la faccio vedere a quella stronza... Mi sblocca la missione... Proviamo... Allora... Quello era... Della biblioteca... Allora... Allora... ... 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